Guardia di finanza di Messina, truffa bonus edilizia, ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 soggetti e sequestro preventivo di oltre 37 milioni di euro. Il comando provinciale della Guardia di finanza di Messina ha dato esecuzione a un'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale perolitano con cui è stato disposto un provvedimento custodiale in carcere e 5 misure degli arresti domiciliari nei confronti di 6 soggetti, facente parte a vario titolo secondo l'ipotesi di accusa di un'associazione per delinguere finalizzata alla Commissione di Truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di accessi abusivi al sistema informatico, di indebite e compensazioni di debiti fiscali e di autoreciclaggio. Le investigazioni hanno avuto origine da una denuncia presentata alle Fiamme Gialle da un privato cittadino, che veniva informato da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate dell'inserimento nel proprio cassetto fiscale di crediti di imposta per un controvalore di ben 1,3 milioni di euro, riconducibile a lavori di ristrutturazione edilizia in realtà mai eseguiti. L'attività criminale ruotava intorno a un medico di medicina generale di Messina, che sfruttando il rapporto di fiducia che intercorreva con i suoi pazienti, prospettava loro la possibilità di ottenere contributi statali ecobonus e superbonus per ristrutturare immobili di loro proprietà. 147 persone sono state arrestate in una maxi operazione antiterrorismo in Turchia, hanno comunicato alle autorità martedì. Negli ultimi otto mesi quasi 3.000 persone sono state arrestate per affiliazioni con l'ISIS e circa 700 sono in carcere, ha reso noto il Ministero degli Interni. Il rischio posto dagli operativi dell'ISIS è alto anche in Italia. Una riunione dei vertici della sicurezza a Roma ha innalzato l'allerta durante la settimana di Pasqua. Lunedì a Venezia il protocollo antiterrorismo è scattato quando sono state trovate due borsi abbandonate in strada, i proprietari sono arrivati prima degli artificieri. Preoccupa soprattutto l'ISIS-K, il gruppo operativo in Asia Centrale che ha rivendicato l'attentato al concerto di Mosca la scorsa settimana. La Francia, che a fine luglio ospiterà le Olimpiadi, ha annunciato misure di sicurezza più severe domenica. Il presidente Macron ha detto che quest'anno sono stati sventati due attacchi terroristici da parte dell'ISIS. Allerta alta anche in Germania, dove a metà giugno cominceranno i campionati europei di calcio. In Spagna invece, che ha appena ricordato i vent'anni dell'attentato alla stazione di Atocha, la Guardia Civile ha arrestato un uomo impegnato in propaganda jihadista e con diversi contatti con l'estero. Catania, quartiere San Cristoforo. Gestione di rifiuti non autorizzata. Riceveva decine di tonnellate di rifiuti da parte di privati cittadini. L'arma dei Carabinieri di Catania ha dedicato un focus ai controlli delle imprese che operano nel ciclo dello smaltimento dei rottami ferrosi. I militari del comando della stazione Carabinieri di Piazza Dante e quelli del nucleo operativo ecologico Carabinieri di Catania hanno effettuato un approfondito accettamento di polizia ambientale presso un'azienda operante nel settore delle attività di recupero di rifiuti ferrosi e non ferrosi. Con sede nel popoloso quartiere San Cristoforo del comune di Catania. La richiesta di un'Europa più orientata alle politiche sociali cresce in tutta l'Unione Europea, con particolare attenzione all'Europa meridionale. Secondo un sondaggio esclusivo Ipsos commissionato da Euronews, il primo sondaggio di questo tipo condotto in 18 paesi europei, i portoghesi sono i più preoccupati dall'aumento del costo della vita. Tuttavia, anche il 68% degli europei vuole che l'Unione affronti l'aumento dei prezzi, mentre solo per il 7% dei potenziali elettori l'inflazione non è affatto una priorità. I finlandesi sono i meno preoccupati dal costo della vita. Segno dei tempi di crisi, i cittadini dell'Unione percepiscono un impoverimento generale. Il 64% dei cittadini chiede di ridurre le disuguaglianze sociali, solo l'8% è contrario. I portoghesi sono di nuovo in testa, mentre i polacchi sono i meno preoccupati. La terza priorità degli elettori è la crescita economica. Il 62% degli intervistati chiede ai deputati dell'Unione misure efficaci per stimolare la crescita economica, mentre la lotta alla disoccupazione viene subito dopo la lotta all'immigrazione clandestina. Gli olandesi sono i meno propensi a qualsiasi forma di intervento dell'Unione per rilanciare l'economia. Le questioni sociali non sono prioritarie solo per gli elettori orientati a sinistra e al centro-sinistra. I moderati, i conservatori, i centristi, i liberali e gli elettori di destra sembrano chiedere un maggiore intervento legislativo dell'Unione in campo sociale ed economico rispetto alle elezioni precedenti. Una maggioranza abbastanza consistente di elettori di destra del gruppo dei conservatori e riformisti europei e dell'estrema destra del gruppo identità e democrazia chiede misure contro l'inflazione, mentre per quanto riguarda le disuguaglianze e la protezione sociale, gli elettori di sinistra e di centro-sinistra sono i più esigenti. La maggioranza degli elettori della grande coalizione chiede una maggiore assertività dei deputati dell'Unione quando si tratta di adottare misure che stimolino la crescita economica. Le questioni sociali ed economiche sono preoccupazioni tangibili per i partiti transpolitici. I leader dell'Unione europea dei prossimi cinque anni devono trovare una soluzione per far fronte alle richieste dei cittadini che potrebbero richiedere una maggiore spesa pubblica e le regole e le politiche dell'Unione degli ultimi anni che hanno rafforzato la disciplina fiscale. Gravi danni all'aeroporto di Birgi per il forte vento. La struttura resta operativa e il traffico regolare. Un tornado si è abbattuto questa notte sull'aeroporto di Trapani-Birgi. Il forte vento, con raffiche che superavano i 150 km all'ora, ha divelto alcune coperture in lamiera, della segnaletica verticale alcuni mezzi e anche degli alberi. I manutentori di Airgest stanno lavorando da ore per garantire il regolare sveggimento delle operazioni di volo, grazie alla collaborazione di vigili del fuoco e polizia. Si stanno creando dei percossi per superare gli ostacoli e poter garantire i voli in partenza già da questa mattina. Robert Bacchiewicz, noto per aver guidato la marcia nazionalista tenutasi in Polonia nel giorno dell'indipendenza, ha annunciato la creazione di un nuovo partito politico di carattere nazional-cattolico. Al centro del suo programma c'è l'uscita della Polonia dall'Unione Europea. è di un altro problema, è di un altro problema, è un altro problema, è di un altro problema. Il sostegno all'Unione Europea in Polonia sta effettivamente diminuendo. Il 20% dei polacchi sarebbe favorevole all'uscita dal blocco. Secondo gli esperti il risultato del recente dibattito sul gran ucraino, ma anche della propaganda di diritto e giustizia. Durante 8 anni la Polonia ha avuto più e più narrativi europei in questa sfera. Il governo si usava per i loro valori, ma anche se c'erano più e più polacchi in l'informazione, è per questo che l'Europa è capace. D'altra parte l'anno scorso il popolo polacco ha eletto un governo, quello di Donald Tusk, apertamente favorevole all'Unione Europea e dopo le elezioni il sostegno alla coalizione è aumentato. Filozofią rządu pana premiera Donalda Tuska jest to, żeby jasno precyzować swoje oczekiwania i swoje racje wewnątrz wspólnoty, ale też potrafić zbudować sojusze wokół swojego zdania. Każdy, kto dzisiaj pyta o scenariusz wyjścia z Unii Europejskiej, niech sam sobie odpowie na pytanie, gdzie byśmy byli wobec wojny na Ukrainie, wobec agresji Rosji na Ukrainę, gdybyśmy dzisiaj jako Polska nie byli częścią Unii Europejskiej i NATO. Chociażby. The upcoming local elections on April 7 will already show which way Pols want to go, eurosceptic or euroentusiast. Magdalena Rodolini for Euronews from Warsaw. La campagna per le elezioni europee del 2024 non sarà uguale a quella del 2019. Se cinque anni fa la questione del cambiamento climatico dominava i dibattiti, oggi non è più un tema così caldo. Secondo un sondaggio esclusivo condotto da Ipsos per Euronews, la lotta al cambiamento climatico rimane una priorità per il 52% degli intervistati, mentre per il 32% la questione è importante ma non prioritaria. Ma secondo lo stesso sondaggio, il 54% degli europei ritiene che il potere d'acquisto sia più importante del clima. Nonostante la leggera disaffezione dell'opinione pubblica, la lotta al cambiamento climatico rimarrà una priorità per la prossima Commissione europea. La pandemia da Covid-19, la crisi energetica, la guerra in Ucraina e il rafforzamento delle capacità di difesa hanno scosso l'agenda climatica dell'Unione europea. Tuttavia le emergenze geopolitiche non minano il Green Deal. Il progetto faro della Commissione uscente entrerà sicuramente in una nuova fase durante la prossima legislatura. Il progetto non è un problema ambientale, magari il driver, è più competitività, è più sicurezza. La buona notte è che il Green Agenda è, per l'Europa, è buono per la competitività e la sicurezza. Perché per un continentale come l'Europa che bisogna imporare 90% dell'acidio e dell'acidio che consuma, le soluzioni green sono il modo di diventare sicure da un'esperienza energetica e evitare la situazione che abbiamo avuto negli ultimi tre anni. Il Green Deal rimane una delle risposte cardinali per rafforzare la sovranità europea e ridurre la bolletta energetica, senza dimenticare che la lotta al cambiamento climatico è una battaglia a lungo termine per la quale gli europei devono prepararsi per i decenni a venire. L'istate generale del cinema, da 12 a 14 aprile a Siracusa, tre giorni di talk e incontri per approfondire il dibattito sul sistema autovisivo in Italia. La manifestazione, promossa e organizzata dalla regione siciliana in collaborazione con il Ministero del Turismo ed Enit, si propone di condividere idee e progetti con il concorso di autorevoli rappresentanti del settore cinematografico, tra cui registi, produttori, attori, sceneggiatori, distributori e critici. Focus particolare attraverso il verticale dedicato a turismo e cinema. Si svolgeranno quindi dal 12 al 14 aprile 2024 presso il Castello Magnace di Siracusa, sull'isola di Ortigia, lista di generale del cinema. E tratterranno, tra i temi importanti, di tax credit, cine-turismo e internalizzazione per avviare e alimentare un osservatorio su dinamiche e prospettive del sistema autovisivo. Tre giorni di dibattiti, talk e tavole rotonde con oltre 200 autorevoli rappresentanti di tutto il settore del cinema italiano. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la prima risoluzione per fermare i combattimenti a Gaza, chiedendo un cessate il fuoco durante il mese sacro musulmano del Ramadan. Il testo è stato approvato con 14 voti a favore dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di non usare il loro potere di veto sulla risoluzione, che chiede anche il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas, ma non ne fa una condizione vincolante per il cessate il fuoco. Questa risoluzione deve essere attuata. Un fallimento sarebbe imperdonabile, ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha cancellato la visita a Washington di una delegazione di Tel Aviv e ha accusato gli Stati Uniti di aver cambiato posizione, non ponendo il veto. Uno dei motivi principali dei precedenti veti statunitensi alle risoluzioni di cessate il fuoco ONU è stato il fatto di non averle legate direttamente al rilascio degli ostaggi. Si intensificano i raid russi sull'Ucraina con 190 missili, 140 droni e 700 bombe aeree in una sola settimana, fino a lanciare i missili personici nel pieno centro di Kiev. Lunedì 25 marzo i detriti di due Zirkon, abbattuti dalla difesa aerea ucraina, sono caduti in diverse zone della capitale, ferendo dieci persone nel centralissimo quartiere di Pechersk. Nel pomeriggio di lunedì 25 marzo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha preso parte a una cerimonia organizzata a Kiev in occasione del Ramadan insieme ai soldati ucraini di fede musulmana. L'evento annuale per celebrare il mese sacro dell'Islam è stato istituito lo scorso anno per i musulmani ucraini, compresi quelli che si...